Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità, una sola app per mettere in rete il trasporto pubblico, la mobilità sharing e le bici e consentire così agli utenti di pianificare gli spostamenti, prenotare e pagare i servizi. Sarà questo a Roma lo strumento per la mobilità integrata a disposizione di romani e turisti. La capitale, insieme con Milano e Napoli, si è giudicata una parte dei fondi del Bando Nazionale che finanzia il sistema della Mobility as a Service, la mobilità come servizio. La nuova piattaforma digitale di servizi sarà realizzata entro poco più di un anno. Le altre notizie, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, entra nella Costituzione. Il via libera definitiva è arrivato ieri dalla Camera con l'approvazione della proposta di legge costituzionale che modifica l'articolo 9, uno dei fondamentali della Costituzione che già contiene la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, e l'articolo 41. Quest'ultimo sancisce ora che l'iniziativa economica deve rispettare anche la salute e l'ambiente. Per il momento è tutto, un saluto dalla Tg della mobilità.